con questo video tutorial andiamo a vedere come compilare una utilizzazione provinciale come inserire la domanda di utilizzazione provinciale entrati con login su istanze online tramite lo speed andare sull'istanza riferita alla presentazione della domanda di mobilità in organico di fatto e fare vai alla compilazione una volta entrati sulla pagina dove riferisce delle normative sui dati personali e sul diritto alla privacy bisogna cliccare su ho letto e accettato i termini e le condizioni legali e fare poi avanti con questo tasto una volta fatto avanti con questo tasto si entrerà su una pagina dove vengono presentate l'anagrafica del docente che tutti i dati relativi al la situazione di titolarità del docente facendo ancora avanti si entra nella pagina dove poter selezionare il la tipologia di domanda da presentare una volta entrati in questa pagina appunto le domande disponibili da questo menu a tendina bisogna indicare il grado e l'ordine della scuola per cui si vuole partecipare per esempio possiamo stabilire di fare una utilizzazione sul grado di titolarità ovviamente perché l'utilizzazione va fatta sullo stesso grado di riferimento alla titolarità facendo così si aprono tre opzioni la prima opzione è l'assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale dove si va a selezionare qui la provincia ma nel nostro caso specifico andiamo a fare l'utilizzazione provinciale che è quella già predisposta per fare l'inserimento si fa inserisci e la domanda viene inserita con successo per quanto riguarda le utilizzazioni a livello provinciale ma anche a livello interprovinciale ma in particolar modo a livello provinciale c'è da compilare la sezione c la sezione c è una sezione riservata a chi fa l'utilizzazione e come prima casella al punto 1 bisogna inserire il punteggio aspettante per l'utilizzazione si ricorda che tale punteggio dovrebbe e uso il condizionale dovrebbe essere calcolato dalla scuola di titolarità e per i docenti che si trovano in uno stato di esubero provinciale dovrebbe essere calcolato dall'ambito territoriale provinciale c'è dall'ufficio scolastico provinciale di titolarità comunque molto spesso tale punteggio viene invece autonomamente calcolato dal docente che fa dal richiedente dal docente che fa domanda come si fa a calcolare questo punteggio si va sulla gradatoria interna di istituto dell'anno in corso e si aggiunge a quel punteggio già calcolato dalla scuola l'anno in corso e la continuità del servizio dell'anno in corso ed eventualmente qualche titolo conseguito successivamente alla presentazione della domanda delle gradatori di istituto questo punteggio va inserito qui nel mio caso inserisco 184 punti che sarebbe il punteggio riferito alla mia situazione poi come si compilano le altre caselle di questa importantissima sezione allora il docente che dovesse essere sovrannumerario ma non perdente posto ma sovrannumerario inorganico di fatto dovrebbe indicare qui il sì diciamo che se invece non è sovrannumerario inorganico di fatto rimarrà con il no invece la casella numero 3 va inserita per i docenti che si dovessero trovare nella condizione di essere docenti in esubero in provincia se sono docenti in esubero in provincia allora dovrebbero inserire in questa casella numero 3 il termine sì se invece non sono come docenti non si trovano in esubero la risposta è da dare è no la quarta casella invece è riferita ai docenti che appartengono a classi di concorso che sono in esubero e il soggetto richiede altri ruoli dunque ruoli diversi da quello di appartenenza come classe di concorso in esubero e dunque dovrebbe rispondere sì a questa casella se invece non si trova in una classe di concorso in esubero e non vuole chiaramente chiedere altri ruoli può mettere tranquillamente no la casella numero 5 e dei docenti che sono titolari nel posto comune ma avendo una specializzazione sul sostegno chiederanno di fare sostegno oppure sono titolari alla primaria sul posto comune ma avendo una specializzazione sulla lingua inglese richiedono lingua inglese dunque dovranno rispondere sì a questa domanda la numero 6 invece la numero 6 invece è riferita al docente che ha fatto un percorso un corso di riconversione su sostegno diciamo un percorso speciale velocizzato e quindi chiede la l'utilizzazione su posti di sostegno e la casella numero 7 vale per tutti gli altri casi non citati nell'articolo 2 e non compresi nelle caselle precedenti oppure per chi appartenente a una classe di concorso o un posto in esubero nella provincia e o in uno dei casi appunto precedenti risponderà la affermativamente sì in questa casella proseguiamo e andiamo avanti per le sezioni delle precedenze andiamo a vedere come compilare la sezione delle precedenze riferita alle utilizzazioni provinciali andiamo nella sezione d e clicchiamo e troviamo che la prima precedenza è quella per i docenti non vedenti se si clicca sì chiaramente tutte le precedenze successive non potranno essere prese in esame se invece non si ha questo tipo di precedenze si rimane sul no è possibile vagliare le precedenze sottostanti come per esempio quella degli emodializzati la numero 9 o quella riferita all'articolo 21 e la legge 104 sullo stesso lavoratore docente che avrà un'invalidità superiore superiore ai due terzi e almeno un articolo 3 comma 1 della legge 104 il punto 11 riferito alla necessità di cure continuative in un dato comune per terapie del docente e potrà scegliersi il comune la precedenza numero 12 riferita sempre su se stessi il docente che soffrisce di una precedenza per articolo 33 comma 6 dunque una gravità sulla propria persona il la precedenza numero 14 riferita al la 13 riferita alla assistenza per i figli e bisognosi di assistenza perché stato di gravità la numero 14 riferita al coniuge in stato di gravità e la numero 15 riferita ai propri genitori ai genitori del docente in stato di gravità poi c'è la precedenza la numero 16 riferita ai lavoratori padre e lavoratrici madri di figli con età inferiore 6 anni la numero 17 è la precedenza che è riferita all'assistenza per gli affini e i parenti entro il terzo grado chiaramente conviventi il numero 18 invece è la preferenza riferita a chi è cessato dal collocamento fuori ruolo e rientra in servizio questa è la sezione di poi c'è la sezione e che è riferita proprio alle utilizzazioni a rientro nella scuola di precedente titolarità per chi è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata potrà fare l'utilizzazione per rientrare con precedenza in questa scuola di precedente titolarità che va indicata in questa casella scegliendo la scuola tipologia di titolarità e dire se il docente vuole essere messa a disposizione della scuola precedente titolarità la numero 20 invece si tratta della conferma del posto in cui si era stati utilizzati negli anni nell'anno precedente si sceglie la scuola si fa la classe di concorso di conferma il tipo di posto per la conferma e insomma si danno le risposte a questa eventualità procediamo poi con le altre sezioni andiamo a compilare la sezione g2 altre indicazioni per le utilizzazioni questa sezione serve ad ampliare la probabilità di successo della domanda di utilizzazione dunque cliccando su sezioni g2 noi abbiamo un una serie di opportunità il docente può chiedere l'utilizzazione anche su posti di durata inferiore all'anno si metterà sì in modo da ampliare questa opportunità di chiedere anche posti durata inferiore all'anno il docente esprime la volontà di essere utilizzato per attività di potenziamento dell'offerta formativa si può cliccare sì il docente esprime la volontà di essere utilizzato su attività di progetti di cui all'articolo 2 comma 10 del contratto collettivo nazionale integrativo finalizzato chiaramente per la categoria degli insegnanti tecnico pratici che alla stessa misura gli stessi insegnanti tecnico pratici possono essere utilizzati su posto di ufficio tecnico poi qui più generalmente il docente può esprime la volontà di essere utilizzato su strutture ospedaliere può essere utilizzato su strutture carcerarie può essere utilizzato sui percorsi per adulti in modo che queste tre condizioni diano una maggiore e più ampia probabilità di soluzione poi chiaramente su cattedre articolate su più scuole dunque cattedre tra scuole dello stesso comune dunque più di una di una scuola nello stesso comune oppure su comuni differenti può essere anche definito dal docente che si trova in part time il fatto di trovarsi in part time e dunque di utilizzare invece che cattedre intere spezzoni proseguiamo poi con ulteriori sezioni andiamo a vedere adesso come compilare le ultime sezioni per l'utilizzazione provinciale per la scuola di secondaria di secondo grado scendendo in basso troviamo queste sezioni la sezione h che è obbligatoria perché va inserita la tipologia di posto richiesta per cui se si dovesse richiedere il posto sul sostegno e magari si è titolari su posto normale allora bisogna indicare le queste tre situazioni di posti sostegno o per vista o per udito o per psicofisici e altrimenti se si vuole fare una utilizzazione sul posto normale allora va inserita questa indicazione i posti normali per cui la tipologia di posto richiesta può essere o sul posto normale o sul posto di sostegno chiaramente per la scuola primaria c'è la possibilità di chiedere la tipologia di posto lingua nel caso in cui si voglia fare la richiesta di utilizzazione per chi è di ruolo nel posto normale della primaria e vuole richiedere il posto lingua dunque facciamo l'esempio della del sostegno indichiamo sostegno e la sezione h per esempio è rimane compilata passiamo alla sezione m sezione m però va riferita nel caso in cui c'è il posto normale per cui bisognerebbe ritornare al la sezione h indicare anche posti normali oltre che posti sostegno dunque indicarli magari entrambi e quindi andare su la sezione di altre classi di concorso per cui dello stesso grado per cui se per esempio si vuole indicare una classe di concorso dello stesso grado noi facciamo per esempio la fisica la 0 20 e indichiamo questa però vedete abbiamo più possibilità più possibilità di scegliere classi di concorso ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lettera abc il che vuol dire che in queste caselle si inseriscono le classi di concorso per cui sia titolo di studio sia abilitazione purché il docente si trovi in uno stato di esubero nella classe di concorso di titolarità cosa diversa invece nel punto 34 che a prescindere dall'esubero nella classe di concorso di titolarità si possono inserire anche qui le classi di concorso per cui sia abilitazione ma dello stesso grado di titolarità per in subordine avere eventualmente la utilizzazione in tali classi di concorso magari in una condizione di sovranumerarietà della titolarità in ultimo la sezione n la sezione n è riferita come si vede in caso di non essere soddisfatti delle preferenze espresse delle 15 preferenze che si possono esprimere il docente chiede ai fini del trattamento d'ufficio questo soprattutto nelle situazioni di esubero e sovranumero e quale comune in qual da quale comune si vuole diciamo che parti la catena di vicino di età e che può essere o il comune di titolarità piuttosto che il comune di residenza e proseguiamo adesso la nostra la nostro tutorial con la scelta delle preferenze andiamo a indicare le preferenze nella domanda di utilizzazione provinciale allora si va sul campo preferenze si fa modifica perché era già stata salvata e si fa aggiungi preferenze a questo punto facciamo presente che qualora il docente sia stato individuato sovranumerario e quindi sta facendo l'utilizzazione come sovranumerario sarà diciamo chiamato obbligatoriamente a indicare come prima delle preferenze la preferenza delle dell'istituto di ex titolarità poi il comune e che in cui ricade o altre scuole del comune in cui ricade la titolarità e prima di indicare altri comuni si deve indicare necessariamente il comune di precedente titolarità dopodiché si procede e si va avanti vediamo come inserire alcune preferenze tra le altre cose le preferenze le preferenze possono essere anche indicate qualora si faccia la domanda di utilizzazione per il sostegno per chi ha diciamo una titolarità di curriculare su classe di concorso e chiede il sostegno in questo caso può chiedere qualsiasi tipo di preferenza anche la preferenza del comune in cui è titolare dunque esprimere questa preferenza e aggiungerla come per esempio può aggiungere un distretto o può aggiungere anche nel caso specifico una scuola di un altro comune perché dopo aver espresso anche il comune che interessava può esprimere andando su questo più scuole di un altro comune dunque indicare scuole di altro comune fare salva e si trova l'elenco già salvato delle scuole per cui ha richiesto l'utilizzazione come vedete per esempio in questo caso il comune di reggio calabra il distretto 31 si fa per dire che può essere tranquillamente anche modificato con il tasto modifica per esempio se si vuole portare da scuola prima del distretto 31 basta fare così e si porta in avanti e si possono spostare in maniera come con i tasti rossi si possono cancellare le preferenze indicate sia un massimo di 15 preferenze come vedete adesso passiamo a vedere come inserire gli allegati ma prima di fare questa indicazione di dare questa indicazione diciamo che bisogna lavorare gli allegati offline inserirli in gestione degli allegati dopodiché nella all'atto della domanda si rientra nella domanda e si allegano gli allegati da gestione allegati dunque andando su allegati si prenderanno gli allegati inseriti sul sistema gestione allegati per allegare i documenti all'istanza di presentazione la domanda di utilizzazione ma questo vale anche per le assegnazioni provvisorie domande di assegnazione provvisoria o l'utilizzazione interprovinciale bisogna ritornare sulle istanze online e andare ad altri servizi cliccando su altri servizi e scendendo più in basso si andrà a trovare il servizio riferito alla gestione allegati andando al servizio alla gestione allegati e facendo avanti si entrerà nell'anagrafica del docente e proseguendo ancora avanti si entrerà nella vera e propria gestione allegati quindi entrando nella gestione allegati e scendendo più in basso si avranno tutto l'elenco degli allegati già presenti in memoria per eventualmente averli inseriti per domande precedenti una volta preparati gli allegati offline basta fare da questo tasto inserisci dichiarare che cosa si vuole la dichiarazione per esempio esigenze di famiglia e inserire il modello di esigenze di famiglia e fare conferma questo verrà inserito a sistema e dunque può essere poi utilizzato rientrando nella domanda e andando alla sezione allegati e richiamando l'allegato inserito in questa area arrivederci a tutti e speriamo che questo video tutorial abbia come dire agevolato la vostra compilazione